... ... ... ... Si parla di trasparenza, no? Aprire la scatoletta... ... ...non è la diretta streaming, aprire la scatoletta... ...ma più trasparenti di così... ...voi ti chiesto addirittura... ...voi chi? ...i giornalisti, in generale... ...hanno chiesto addirittura... ...quanto guadagnava Casaleggio... ...ma che c'entra col movimento... ...cioè questa non è trasparenza quella che chiedete... ...ma io non ho chiesto questo... ...in generale i giornalisti sì... ...in generale, quindi in generale... ...pure io potrei fare un discorso in generale sul movimento, va bene... ...quello che fate... ...no, quello che faccio? ...no, non lo so, io non lo so... ...ah, e allora... ...è questo è ancora un discorso in generale... ...ma non lo so, io non lo so... ...a questo è un discorso in generale... ...è un discorso in generale... ...ma non lo so, io non lo so... ...l'acqua... ...dicentre... Grazie a tutti.